Ci sono molte storie belle, questa è bellissima. C'era una volta il principe Leon. Aveva tutto ciò che un uomo possa mai desiderare, ma poi... Perse la felicità, divenne una creatura crudele. Vuole che una delle mie figlie vada a servizio di lui. Mettetemi alla prova. Chi è quella ragazza? Dammi tre settimane e io te la farò trovare nel mio letto. È pericoloso questo gioco. L'amore, quello vero, può arrivare all'improvviso. La dolce fanciulla che avresti dovuto sedurre. Sta seducendo tutti qui al castello. In prima visione, La Bella e la Bestia. Prossimamente Rai 1.